In tutti i paesi europei ed extraeuropei si è celebrata la quinta giornata mondiale del mutilato del lavoro. In tutta Italia, in tutti i capoluoghi di provincia, si sono svolte manifestazioni religiose e civili. La cerimonia principale si è svolta a Roma e la celebrazione si è aperta con un pellegrinaggio di omaggio all'altare della patria dove è stata posta una grande corona dall'oro. Poi, nel Salone d'Onore del Palazzo della Civiltà del Lavoro all'Eur, si è svolto un grande convegno con la partecipazione del Ministro del Lavoro Bosco, il quale ha detto che la giornata deve essere considerata quale mezzo per esaltare il significativo contributo che i mutilati del lavoro hanno portato alla causa comune del progresso e della civiltà e ha assicurato una piena tutela dei diritti di coloro che per la loro particolare invalidità risultano incollocabili.